Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace non c'è al mondo. Ciao cari amici, siamo di nuovo in diretta su Iris TV di Natirdea per voi, viaggi con stile sotto l'ombrellone. Oggi con noi la nostra bellissima Cinzia, una bellissima voce, è la mia assistente Mara. Dove siamo oggi Mara? Oggi siamo in Valsassina, in località La Troggia, dove potete vedere delle splendide tascate. Quindi non potete mancare quest'estate con noi ragazzi, perché sarà con i fiocchi. Dovete stare tutti sintonizzati su Iris TV, viaggi con stile. A presto, ciao!